Questa settimana a soli 49 centesimi al chilo, patate locali bianche, rosse e gialle, l'orto del Casale, freschezza e bontà a chilometro zero. Ti aspettiamo nei mercati di Riva Nazano Terme, Viguzzolo, Casal Noceto e Volpedo. Quali sono pregi e difetti di sale? Lo chiediamo a tre cittadini fermati in maniera casuale nelle vie del paese. Andiamo a sentire. È un bellissimo paese, ci dovrebbero essere delle cose che vanno messe a posto, però non vedo quella grandissima difficoltà che abbiamo in altre parti, sembra abbastanza tranquillo come paese. Cosa lo rende bellissimo? Che è comodo ai servizi, se hai bisogno di fare qualcosa ti riesci a muovere tranquillamente, poi logicamente se qualcuno è in difficoltà, basta andare in comune, ti aiutano, non è un problema. Come paese non vedo quelle cose che danno fastidio, ma a me va bene, mi sta bene come paese, mi va giusto. Invece hai detto che qualcosa dovrebbe essere messo a posto, che cosa ti riferivi? Ci sono delle piccolezze che comunque vanno affrontate in base ai problemi delle persone, solo per quello. In base a ognuno di noi ha dei problemi, però basta parlarne, si discute, si chiedono se si possono avere dei servizi e boom. Però per adesso io non ho problemi, quindi vivo tranquillo, non ho problemi. Un difetto è c'è un'amministrazione che fa vomitare, che non fa niente e questo è il guaio grosso di sale. La spazzatura viene raccolta in un modo assurdo, in un momento che si parla dei mari inquinati dalle plastiche qui, è un disastro e non fanno nulla, anche se tu protesti. Il pregio invece lo troviamo oppure no? Il pregio? Eh, ho abitato 32 anni a Milano e questa è la mia fortuna, è il mio pregio, è il pregio del paese, di essere stato via da qui. Quindi è comunque un difetto. Esattamente, non ne trovo di pregi, assolutamente neanche uno. Basta fare un giro per il paese, c'è una sporcizia assoluta, i cassonetti fanno schifo, le strade fanno schifo, i campi a lato delle strade sono pieni di plastica, dipende anche da noi certo, non solo, però nessuno muove un dito. Il pregio potrei essere io però, vabbè. Anche per gli altri cittadini, gli altri cittadini la ritengono un pregio del paese? Assolutamente, un valore aggiunto. Mi rende un pregio, intanto il fatto di sopportare lui. Ah, il suo amico qua vicino di tavolo al bar? Ma no, il pregio è semplicemente la tranquillità, basta. Ah no, però mi è venuto in mente un altro difetto, il traffico, nella via principale c'è il divieto, ci sono i cartelli, il divieto di transito nei giorni festivi, sono i giorni in cui passano più macchine, vigili non pervenuti. Andrebbe un po' più regolamentato, controllato? Eh, ma assolutamente, adesso non c'è nulla, di solito ci sono 6-7 macchine fuori dagli spazi che riempiono la piazza, si fa fatica a passare, nulla, provvedimenti zero.